buongiorno agli ascoltatori la verità alle sette la resegna politicamente scorrettissima della verità allora ancora la vicenda pandiano sul quotidiano diretto del Maurizio Belpietro e in primo piano soprattutto la contraddizione che stride fra il fatto oggettivo che stanno per entrare in vigore le norme più dure dal 15 febbraio, l'obbligo per 50, le sanzioni, l'agenzia delle entrate, tutto conoscete dal primo febbraio scorso la necessità pure per andare nei negozi di esibire il green pass eccetera la contraddizione diciamo tra questa estremizzazione tremendista e il fatto che invece la malattia si attenui e che tutti dicano voltiamo pagina e allora da un lato arrivano le norme più dure e dall'altro si dice di voltare pagina la verità pone l'accento su tutte queste contraddizioni è abbastanza surreale leggere invece che il Corriere della Sera che sembra veramente il capofila compagni, controordine, anzi controordine compagni diceva il grande Guareschi prima bisognava cantare la canzone del terrore adesso torniamo a ballare recita un sommario del Corriere della Sera però le norme sono sempre le stesse tra i virologi più equilibrati e avveduti in tutti questi mesi va segnalato il professor Vaia dello Spallanzani che oggi rilascia un'intervista come sempre intelligente alla stampa in questo caso dicendo basta burocrazia sui monoclonali, pillole anti covid rese disponibili con più facilità e gratis abrogare l'isolamento e la quarantena per chi sta bene, grazie professore anche per la questione personale e insomma cerchiamo di avere un atteggiamento, basta parlare di cose, la quarta dose eccetera Vaia sulla stampa La politica è ancora in primo piano la questione interna al Movimento 5 Stelle Lo sapete l'altro ieri il Tribunale di Napoli ha sospeso il nuovo statuto e quindi l'elezione di Giuseppe Conte è una disgrazia? È una disgrazia per Conte non c'è dubbio e per Travaglio suo corazziere diciamo così ma non sembra una disgrazia per Beppe Grillo che ha colto l'occasione per riprendere in mano il bandolo della matassa e ricorderete che anche al momento della effettiva nomina di Conte della stesura dello statuto volarono parole grosse tra Grillo e Conte poi naturalmente furono smentite ma restano agli atti, non ha leadership, non ha carisma eccetera e ora la sensazione è che il comico abbia l'occasione di diciamo risussumere su di sé i poteri Centrodestra restano le tensioni, ieri battute a distanza tra la Meloni che dice sarò io a guidare i conservatori e la Meloni che ha parlato in modo esplicito scegliendo le parole del suo partito quindi diciamo ragionando per la propria lista Salvini che lei è il posto c'è qualcuno che vuole perdere da solo vedremo l'intervista di Giorgia Meloni alla stampa, o meglio alla stampa online è andata da Massimo Giannini ieri a fare queste conversazioni online che poi oggi sono trascritte sul quotidiano torinese e poi molte altre cose, bollette e inflazione, vedremo cosa dice Claudio Antonelli sulla verità segnaleremo anche lottieri sul giornale, la questione ucraina con diciamo quello che ieri veniva accreditato come un successo diplomatico di Macron, oggi 24 ore dopo si è diciamo afflosciato come un soufflé venuto male. La lettera molto toccante di Ratzinger, papa emerito che diciamo mostra intima sofferenza e anche diciamo pentimento, non credo sia sbagliato usare questo sostantivo per gli abusi l'arcidiocesi di Monaco quando ne era responsabile, diciamo una specie di pentimento intimo e naturalmente si discute su queste affermazioni. E poi le accuse di dossieraggio al conduttore di report Ranucci, nel senso che diciamo Ranucci ha mandato una serie di messaggi a dir poco inopportuni e sgraziati a un parlamentare della commissione di vigilanza, l'orevole Ruggeri di Forza Italia, e all'UDEN dice ah ma io ho dossier, mi arrivano dossier su parlamentari che pippano eccetera. L'idea che il grande inchiestista della RAI interagisca così verso i soggetti che devono controllarlo non getta una luce brillantissima, né passata né futura sul metodo report. Ho ritrovato una cosa nelle alcune lettere di Pasolini, in Pasolini si rivolge a un giovane dicendo lo sputtanamento è retroattivo e in effetti diciamo se mi accorgo che sei così adesso eri così anche prima. Naturalmente Pasolini non poteva parlare di Ranucci e di report, però il concetto torna sempre utile. Le aperture, la verità, c'è la prova, il super pass è inutile ma ora scatta l'obbligo sul lavoro, i contagi e i morti degli ultimi mesi e il confronto della curva dell'epidemia con quella di altri stati che non hanno applicato le nostre restrizioni fanno a pezzi il provvedimento, anche un membro del CTS si dice sconcertato dalle decisioni del governo che tira dritto. Poi fotonotizia e approfondimento di Lorenzo Bertocchi sullo sdegno di Ratzinger, mi hanno dato del bugiardo ma vado a Dio con l'animo lieto e poi occhio al taglio medio, altro che 4,8, l'inflazione vera è all'8%, vedremo l'approfondimento di Claudio Antonelli, così la verità. Corriere della Sera, sotto la testata, Grillo gela Conte, rispettare le sentenze e poi le attività del governo, giustizia e il governo accelera partiti divisi. Ma il titolo di maggiore evidenza è Ratzinger, chiedo perdono. Andiamo a vedere il giornale che titola su un'intervista un po' curiosa, nel senso che poi è corredata da tutto un apparato fotografico smaltatissimo di Berlusconi a chi sceglie il giornale di Signorini per lanciare un messaggio politico, quindi forse tanto politico il messaggio non è, ma il giornale è, si fa prendere dall'entusiasmo, pronto a rifondare il centrodestra. Berlusconi in campo. Il tempo cambia argomento e ci riporta a un grande classico, le truffe sul reddito di cittadinanza, mille stranieri rubavano il reddito di cittadinanza. La stampa, sotto la testata il mea culpa di Ratzinger sui preti pedofili, ma il titolo di maggiore evidenza è la conversazione della Meloni con Giannini, poi si aggiunge la conversazione con Nicola Carratelli che firma il pezzo, Meloni. Sono pronta a governare. Repubblica, il mea culpa di Ratzinger e nel taglio medio 5 stelle, Grillo blocca Conte, battaglia per lo statuto, avrete la curiosità di che Travaglio combatte con Conte, perindeac cadavera, oltre, diciamo, dove Casalino sosta Travaglio, non si ferma, 5 stelle, tre vie d'uscita e ordinanza col buco, vedremo, fiammeggiante l'editoriale del direttore e poi questa immagine di Conte con addosso un bersaglio per farne un target e quindi si immaginano i poteri forti che tirano le frecce, insomma, un complotto, ma qui sembra piuttosto un autocomplotto, l'avvocato del popolo non è stato nemmeno in grado di scrivere lo statuto. Poi è un altro paio di maniche che non sia mai una buona idea che sia la magistratura a ingerirsi negli affari interni di un'associazione, di un partito, eccetera, questo è un altro discorso, che non è peraltro un discorso che i grigiani hanno da fare, visto che loro hanno inneggiato agli interventi della magistratura, però così l'apertura del fatto. No, peraltro oggi è mercoledì, quindi avete l'occasione di prendere non solo la verità, ma anche Panorama, Quirinal Tango è la copertina che quindi ci riporta a tutti in retroscena della vicenda del Quirinal. Questo mi dà l'occasione di dirvi che ci avete altre due opportunità in edicolo, anzi, una in edicola e una nell'edicolo online. Edicolo online, laverita.info, se siete abbonati, gratis, se non siete abbonati al prezzo di 3 euro mandando una mail, potrete ricevere il piano bis, il libro di Carlo Tarallo, che spiega in modo dettagliato, eccetera, che altro che incidente o così caso, c'è stata un'operazione politica che poi ha avuto successo per la rivoluzione di Mattarella. Mentre in edicola il libro Borgonò, con prefazione a Belpietro, sui santoni del virus. O peraltro vi segnalo, voi sapete che cresce l'attività di podcast della verità, questa stessa rassegna, gli appuntamenti delle 19, stasera alle 19 sarà con me il vice direttore della verità, Martino Cervo, sono tutti prodotti poi scaricabili a seguito dal sito laverita.info in formato podcast. Sapete che c'è anche una collaborazione con Tinaba, con tutta una serie di servizi, la carta della verità, ve ne ha parlato Claudio Antonelli tante volte. Ecco, questa sera su Instagram, in questo caso, alle 19.15 ci sarà una live della verità proprio per spiegare la collaborazione con Tinaba. Quindi annotatevi pure questo, alle 19 Twitter, Facebook, Martino Cervo, alle 19.15 Instagram, la verità digitale che spiega la collaborazione con Tinaba. Incamminiamoci e cominciamo da Maurizio Belpietro, l'incipit del suo editoriale. All'improvviso anche i più fieri sostenitori del Green Pass si sono accorti dell'inutilità del suddetto. Peccato che la scoperta arrivi con sei mesi di ritardo e proprio in coincidenza dell'inasprimento delle norme volute da Speranza e compagni. Già, perché martedì prossimo scarterà la tagliola per alcuni milioni di lavoratori che non sono in possesso del lasciapassare l'afforzato, ovvero del certificato che si ottiene solo con vaccinazione per guarigione, senza contare che da una settimana è in vigore l'obbligo vaccinale per tutti gli italiani con più di 50 anni, i quali, nel caso non si adeguino al diktat ministeriale, si vedranno notificare dall'Agenzia delle Entrate una multa di 100 euro, un trattamento che osa Belpietro, che il fisco non riserva neppure agli evasori. Ma poi, tutto il pezzo di Belpietro, e non vi tolgo il piacere di scoprirlo da voi, questa rassegna è anche in modo molto esplicito, un modo per darvi un'idea di quello che c'è sul giornale di oggi, ma anche e soprattutto per invitarvi all'acquisto della vita, poi Belpietro racconta con una cronologia adeguata e con un grafico inequivoco come l'andamento dei casi e dei decessi in tutti questi mesi abbia avuto un andamento, la curva in crescita al crescere dei provvedimenti del governo, che vuol dire causa e effetto che i provvedimenti del governo hanno causato l'aumento della curva, più o meno vuol dire che i provvedimenti del governo sono stati totalmente inefficaci, nonostante tutta la sequenza di decreti, di restrizioni, di provvedimenti, di uso ossessivo della paura e del Green Pass, i casi sono saliti e decensi pure. Vi spiega tutto Maurizio Belpietro. E il pezzo di Belpietro, dovete leggerlo, direbbe Conte in combinato disposto, con quello di Antonio Grizzuti, che fa vedere come una curva più o meno dal medesimo andamento ci sia stato anche nei paesi senza Green Pass e senza tutti i nostri divieti, il che è la controprova ulteriore, tutto quell'apparato di restrizione a cosa è servito a niente. Alessandro Rico ci spiega, e anche quest'altra parte internazionale rilevante, come una serie di paesi che pure avevano preso, non come noi, ma comunque in questa direzione, strade di restrizione, stiano retrocedendo, vale per l'Austria, vale per la Polonia, eccetera. Chi cancella una parte di restrizione, chi ne posticipa e quindi ne rende, diciamo, realisticamente improbabile l'entrata in vigore. Camilla Conti spiega come finisca dal 10, dall'11 la storia delle mascherine all'aperto e però torna con ragionamento al criterio ma che senso ha avuto questa storia della mascherina all'aperto? Non ce l'ha avuto. Flaminia Camilletti spiega il fallimento, la performance disastrosa del ministro Bianchi, Mentre Francesco Borgonovo torna a riflettere su questa logica, diciamolo pure fastidiosa, ribadita ieri dall'immunologo Abrignani, della premialità. Ah, hai fatto così e allora ti diamo un contentino. Uno stato di diritto può funzionare in questo modo? No, di tutto. Così la verità. Volete tutt'altra musica? Fa per voi il Corriere della Sera, che è stato battistrata per mesi del tremendismo e oggi è battistrata dell'allegria forzata. Guerzoni Sarzanini, quelle che facevano il caletino, il sussidiario per spiegarti come bisognava vivere, e adesso ti dicono anche che devi essere di buon umore e sorridenti. Mascherina al chiuso fino al 31 marzo. E gli stadi li aprono al 75%. Se la curva continuerà a scendere, l'obbligo non sarà prorogato. Eh, ci mancava solo. Dice, beh, se la curva scende, ancora più. Ma attenzione, sommari. E da venerdì si torna a ballare in discoteca. E la pagina accanto che fa da Pandan ha un'intervista di Margherita De Bacca, un altro dei televirologi, questo diciamo è dell'Università Mara Venier, l'avete conosciuto a Domenica Inna, Francesco Lefoque, no, scherzi, lui segna la sapienza, ma poi diciamo c'è una cattedra pure a Domenica Inna da Zia Mara, e dice, è un segnale di rinascita, festeggiamo col sorriso, ma adesso serve prudenza, l'ultima fase è decisiva. Ora, tutto questo, però, ovviamente, qui ha ragione la verità, festeggiamo con il sorriso, chissà se festeggeranno anche quelli come me, che stanno bene e sono agli arresti domiciliari, oppure quelli che hanno più di 50 anni, per qualche ragione non sono vaccinati e non possono ritirare la pensione all'ufficio postale, quelli che devono esibire il Green Pass pure per andare dal tabaccaio, o quelli che non potranno portare il pane a casa dal 15 febbraio, però, dice Lefoque, che bisogna festeggiare, e ve lo dice Lefoque, Gozia Mara, e che volete voi non festeggiare. Va bene, una voce più ragionevole decisamente è quella del professor Baia, sentito da Paolo Russo sulla stampa. Monoclonali per proteggere i fragili, pillole anti-Covid gratis in farmacia, abrogare l'isolamento per i positivi, dice, a onor del velo, la risposta di Vaia è più larga, poi accetta il compromesso, dice quelli con la terza dose, dice, i CDC americani con uno studio approfondito hanno visto che un positivo è contagioso nei due giorni antecedenti alla comparsa dei sintomi e nei tre giorni successivi, per cui dopo cinque giorni una persona asintomatica può essere liberata, magari portando l'FFP2. Negli USA già lo fanno anche con i non vaccinati, e non hanno avuto impennate dei casi. Io sono per la via italiana della gradualità, per cui va bene per chi ha fatto la terza dose, ma siamo in una fase nuova della lotta al virus, per questo dico che le misure restrittive non possono, ma devono essere allentate. Ah, vedete, vaia, pur facendo una gradualità sgradevole, pur riconoscendo che negli Stati Uniti la cosa dei cinque giorni vale per tutti, vaccinati e non vaccinati, dopo cinque giorni sei asintomatico, basta, però almeno vaia indica la direzione, ed è molto netto anche su questa storia della quarta dose, perché sadicamente il giornalista dice, servirà la quarta dose e vaia con un sorriso, ma se nemmeno le aziende produttrici l'hanno mai sponsorizzata, e poi aggiunge, può avere senso per i più fragili in autunno, una nuova somministrazione, ma non con questi vaccini, così vaia. Oh, ringrazio anche Francesco Storace, vice direttore del Tempo, che fa un bel commento per dire basta con queste restrizioni, e cita anche il caso di chi parla e di altri stanno bene, ma sono costretti in casa, e immagina Storace che uno chiuto portiere verifichi che uno non esca dal portone. Mancano solo i portieri Vopos, i portinai come polizia politica di speranza, speriamo di non arrivare a questo. Grazie comunque al grande Storace. Movimento 5 Stelle. Allora, come sempre, come già accaduto ieri, se volete avere una visione d'assieme della giornata di ieri, fa per voi il pezzo di Carlo Tarallo sulla verità. La situazione di caos, la nota di Grillo che dice le sentenze si rispettano, nessuna decisione presa sul tamburo e per reazione, e capite bene che questo è uno schiaffaconte che invece stava cercando la via per ridecidere al volo, e chiude Tarallo con l'interrogativo che angoscia di più i dirigenti grillini e i potenziali candidati alle amministrative, ma le liste come le facciamo, come le presentiamo, chi ha titolo per fare che cosa. Andiamo a vedere come la mette il Corriere della Sera, anche qui due parti, la nove, la otto è sui fatti, interviene Grillo e frena Conte, no da decisioni avventate, e poi Emanuele Buzzi, nella pagina accanto, che va diciamo nello spogliatoio di Conte, tutto ammaccato, pieno di pugni presi, l'ex premier spiazzato dal passo del fondatore. Conte sarebbe stato sorpreso dalla mossa del garante, anche se ambienti vicini all'ex premier smentiscono e parlano di sintonia tra le parti, virgolette, c'è chi sta usando questa situazione per indebolire Conte, con modifiche ai suoi poteri, dalla gestione dei territori a variazioni statitarie, dicono i contiani, ma replicano i di Maiani e i malpancisti, siamo al paradosso, veniamo accusati per il frutto delle loro scelte. Capite bene, però la sensazione è che Conte non abbia ancora elaborato il lutto, cioè lui formalmente i poteri non ce l'ha più, la palla è tornata al fondatore, il quale fondatore deciderà lui come smistare il pallone tra Conte, Di Maio, se stesso, più realisticamente, eccetera, e la parte finale del pezzo di Buzzi sembra un dpcr di Conte, per come intrecciate, i tempi si preannunciano lunghi, almeno un mese, in 6, 7, 10 giorni i 5 Stelle faranno la prima mossa, Grillo indicherà la rosa dei nomi del comitato, ci sarà una votazione, poi tra gli eletti dovranno riunirsi, scegliere un presidente, deliberare una votazione, questa fase potrebbe essere completata per l'inizio dell'ultima settimana di febbraio, poi per le votazioni che riguardano le modifiche statutarie serviranno 15 giorni di preavviso, ecco allora arrivare a una possibile soluzione, nella migliore delle ipotesi per la prima decade di marzo, ma io non sei così ottimista, prima di procedere spediti dovremmo valutare con attenzione ogni aspetto di ogni passaggio, sottolinea un pentastellato, e quindi capite bene che è peggio delle quarantene di speranza, siamo ok oggi 9 febbraio e questi preannunciano una decisione come è per la prima decade di marzo, però attenzione, se si vota alle amministrative a metà aprile, a metà marzo è il termine per presentare le liste, quindi poi capite com'è diciamo delle scadenze oggettive peserano. Secondo Pasquale Napolitano sul giornale c'è una ipotesi, un lodo, diciamo, il lodo è sostantivo associato ad Alfano, qualcuno dice che Di Maio è il nuovo l'olfano e quindi il lodo Di Maio, chiamiamolo così, anche se il titolo di pagina 3 del giornale usa una parola latina, Pax, la Pax di Di Maio, però sta Pax non è un grande affare per Conte perché secondo lo schema di Di Maio nella interpretazione in napolitano sarebbe Conte di mezzano, cioè resti però così così, però ci dai la possibilità di fare il terzo mandato, quindi come dire, dammi agibilità politica per altri 5 anni e poi ti faccio ti faccio uno statuto così, così la l'acuta lettura di Napolitano e diciamo sulla ipotetica furbata di Di Maio, anche la stampa descrive il fatto che il pallino sia tornato a Grillo, approfondimento di Annalisa Cuzzocrea e l'incipit del commento di Marcello Sorgi, è evidente che anche Grillo non sappia bene cosa dire e cosa fare dopo la sentenza del Tribunale di Napoli che ha decapitato il Movimento, ma se ha deciso di tornare in campo impedendo a tutti, in primis a conto, di fare gesti, tipo sfidare la magistratura con una nuova votazione in tutto e per tutto simile a quella annullata grazie alla quale l'Avvocato del Popolo aveva preso la guida del Movimento, è perché vede troppe punzioni distruttive tra gli esponenti della nuova generazione. Le punizioni distruttive così sorgi. Vediamo anche il taglio che sceglie Repubblica, non dissimile. Matteo Pucciarelli è forse il pezzo diciamo più feroce nei confronti di Conte, il garante non si fida più, vuole decidere anche sul ritorno di Russo e qui ci va di mezzo oltre a Conte pure Crini che aveva escluso la piattaforma di Casaleggio ora nella interpretazione di Grillo incautamente e anche qui si fa l'ipotesi di un nuovo comitato di grazia. E chi resta diciamo nell'angolo di Conte solitario, contuso, incerottato, resta Aglio e vediamo come la mette Travaglio. Forse nemmeno Conte e i Cinque Stelle si rendono conto di quanti piedi Conte e i Cinque Stelle hanno pestato in questi quattro anni dal trionfo elettorale del 18 al blocco stradale imposto a Draghi sulla via del Quirinale. Ma il sistema di potere che da sempre comanda l'Italia col pilota automatico si incarica ogni giorno di rammentarlo a loro e a noi. Basta unire i puntini di quel che accade. Non è un complotto, è un moto spontaneo di annusamenti, conformismi, riflessi condizionati che da un anno tende disperatamente a riportare il disordine all'ordine, alla restaurazione dello status quo ante, chiudendo violentemente la stagione del cambiamento inaugurata dal voto virgolette sbagliato degli italiani e vomitando con le corpi estranei i non allineati. Va bene, e qui Travaglio ha un grammo di ragione e un chilo di torto. Il grammo di ragione, è vero che c'è un'operazione di restaurazione che è sotto gli occhi di tutti, ma diciamo, questo cosa c'entra col fatto dei Cinque Stelle crollano nei consensi, non hanno saputo esprimere uno straccio di governante capace, hanno prodotto i toninelli al governo, le lezzi, le castelli, tutta questa roba qui, che Conte non sia stato in grado di iscrivervi e francamente qui siamo alla categoria dell'autocomplotto più che del complotto, però so, Travaglio, combatti. Trasferiamoci nel campo del centro-destra che sta meglio sicuramente dei Cinque Stelle, questo è pacifico dal punto di vista dei sondaggi, però non sta meglio dal punto di vista dell'armonia e della salute politica complessiva. Anche ieri scambio di battute spigolose tra la Meloni, sarò io a dare le carte e Matteo Salvini, qualcuno pensa di perdere da solo. Qualunque giornale sceglierete di acquistare vi racconta queste cose. Prendiamo così per comodità il Corriere della Sera che racconta questo scambio di parole tra Meloni e Salvini e poi evoca l'intervista a chi di Berlusconi glorificata dal giornale Berlusconi sono pronto a rifare la coalizione e il pezzo di Cremonesi. Mentre la nota di Massimo Franco denota uno scarto rispetto ad altri commenti dei giorni passati. Non ve la leggiamo ma ve la segnaliamo. Un po' tutti hanno in questi giorni detto guardate che c'è un processo osmotico dalla Lega a Fratelli d'Italia in questa fase come in passato c'era stato da Fratelli d'Italia alla Lega Meloni e Salvini tendono a pescare nello stesso elettorato. Massimo Franco dice no guardate che la Meloni ha chance di pescare dai delusi del grillismo una destra d'opposizione a caccia dei voti grillini così la tesi di Massimo Franco sul copino. Mentre diciamo non sembra proprio di quelle storiche ecco diciamo non resterà incisa nel bronzo l'intervista di Antonio Tagliani a Giuseppe Alberto Falci si limita a dire che il centrodestra non si fonde a freddo però restiamo uniti la formula si troverà ecco la formula vincente si troverà è un esercizio di leadership cioè le cose si aggiustano eccetera e così e poi il passaggio su Forza Italia che è al centro dell'alleanza forse l'unica battuta chirurgica diciamo nelle situazioni in cui non c'è chiarezza strategica eccetera cosa resta resta solo la lite condominiale e le uniche parole chiare di un'intervista per il resto vaghissimamente dei mobilistiani di Tagliani le uniche parole chiare e abrasive sono quelle per lo scontro interno verso Brunetta Renato Brunetta dice di polarismo bastardo e risponde Tagliani la sua è un'opinione personale non è certo quella di Forza Italia voi immaginatevi Brunetta stamattina quando legge sta cosa dirà io ho la tessera numero non so che cosa di Forza Italia Berlusconi è stato mio allievo ho spiegato tutto potevo vincere il Nobello e Tagliani immaginiamo che oggi diciamo da Palazzo di Doni partirà un vorticoso giro di telefonate Whatsapp SMS chiunque nella vita abbia avuto e dato il proprio numero di telefono a quello in Brunetta e abbia avuto quello in Brunetta riceve ogni giorno anche i messaggi Whatsapp in cui Brunetta spiega le sue imprese passate future Brunetta al mare Brunetta nautico Brunetta contro oggi c'è da temere diciamo la contraerea di Brunetta rispetto a Tagliani va bene mentre la citata intervista le citate parole della Meloni che circolano da ieri perché circola da ieri perché la Meloni è andata nello spazio online di Massimo Giannini sulla stampa volete diciamo la trascrizione con ulteriori poi domande fatte da un altro anche intervistatore Nicolo Carratelli pagina 4 della stampa Fratelli d'Italia primo partito della destra io mi preparo a governare i contenuti sono quelli che conoscete la Meloni che parla già più del suo partito che altro e già lancia un'opa complessiva ma quello che colpisce in questa pagina è veramente il livello di autoreferenzialità della stampa e del suo direttore veramente è incredibile un tempo i direttori quasi non scrivevano o scrivevano pochissimo o riservavano l'ora editoriale a una circostanza importante meno che mai andavano in giro a fare così i testimonial di se stessi qui invece è una specie di self promotion costante tu intervisti comunque la leader non si sa se del primo del secondo del terzo partito ma intervisti una leader politica alla foto è quella di Meloni e Giannini sulla poltroncina scritta grande 30 minuti al massimo massimo maiuscolo che è Giannini veramente è incredibile come il quotidiano che ha visto le firme come editorialisti di Leonardo Scias eccetera sia oggi diciamo una specie di sgabello per il prossimo incarico professionale di Giannini che se si impegna così ma dategli una direzione rai tanto paga il contribuente no? ma non vorremmo dare suggerimento poi tanto accadrà va bene restano due cose da segnalare allora il commento di Stefano Folli che ragiona ecco mentre diciamo un po' tutti in questi giorni riflettono su come le tensioni si stiano scaricando sui partiti Folli ci richiama alla situazione che t'altro che rosea del governo e parla del secondo tempo del governo e evocare il secondo tempo vuol dire che il primo tempo non è stato un dire anche non si può parlare di un esecutivo draghi due perché non c'è stata alcuna crisi e nemmeno un rimpasto di alcuni ministri certo la rinuncia a un pur modesto ricambio ministeriale non rappresenta di per sé un punto di forza anzi potrebbe voler dire il contrario non si tocca nulla perché altrimenti il castello di carte rischia di crollare in fondo come ha raccontato ieri questo giornale in un pezzo molto informato il presidente del consiglio non sarebbe contento di come lavorano alcuni responsabili dei di castelli soprattutto quelli affidati ai cosiddetti tecnici come è ovvio è inutile cercare in questi casi conferme ufficiali se ci fossero vorrebbe dire che la procedura del rimpasto è già in moto e qui Folli fa riverimento al pezzo di Ieri di Repubblica mi pare firmato da Matteo Bucciarelli posso sbagliare ma in particolare si diceva Cingolani Giovannini male indietro rispetto al PNRR a una serie di questioni ma Folli dice sì ok il rimpasto non lo possono fare però insomma ci sarebbe scontentezza e andiamo a vedere la pars construens che potrebbe fare il presidente del consiglio quanti consigliano a Draghi scrive fuori di battere il puno sul tavolo forse non valuta la sufficienza che esercitare una leadership non significa gridare più forte specie in una fase in cui tutto sembra in procedimento di disarticolarsi proprio perché gli assetti sono precari dalle nervosi dei 5 stelle ai ritormenti del centro-destra il premier è il primo a sapere che guidare un esecutivo nell'anno elettorale significa dialogare e mediare ma sempre allo scopo di spingere i partiti verso compromessi alti e inersi a viva e chiare in attesa che la legislatura finisca così vorremmo dire i consigli saggi di Folli e di Palazzo Chigi poi vedremo se Palazzo Chigi sarà nelle condizioni di seguire questi consigli diciamo a posteriori e proprio Stefano Folli ce l'aveva fatto capire nelle settimane passate ma adesso la cosa è ancora più chiara si capisce perché Draghi diciamo controlli pronto desiderava trasferirsi al Quirinale perché capiva quello che gli sarebbe venuto addosso nel 22 disarticolazione politica inefficienza complessiva del governo il PNRR che è un mucchietto di carte inflazione e bollette che crescono altro che super ripresa ma invece ripresa stentata valanga di chiusure e questo è il tema e Folli oggi gli dice ma cerca di esercitare una leadership spingendo i partiti a dare ciascuno il meglio di sé e a convergere su compromessi alti anziché su mediazioni a ribasso saggio consiglio di Folli vedremo come si comporterà Draghi ma la cosa più scioccante della giornata che diciamo in modo neutro e apparentemente così fattuale con piccoli box viene ripresa qua e là dai giornali maggiori per comodità prendo il boxino della stampa è questa vi ricordate dopo il discorso di Mattarella il giorno dopo Enrico Letta aveva fatto questo strano tweet diceva adesso si discuta dell'agenda Mattarella una sessione parlamentare di fatto così facendo altri due passi con gli scharponi sulla Costituzione l'indirizzo politico non aspetta al Presidente della Repubblica in Italia aspetta al Presidente della Repubblica francese ma quello è un altro sistema costituzionale e però oggi per iniziativa del PD a Palazzo Madama si terrà una conferenza dei capigruppo per una proposta su come procedere quindi siamo al Presidente della Repubblica che scrive un'agenda e questi rappresentanti parlamentari anziché dire facciamo una sessione parlamentare facciamo una proposta su come il Parlamento a questo punto che ci sta a fare la Costituzione che ci sta a fare se così de facto e per prassi la si mette sotto i piedi in questo modo però queste preoccupazioni non riguardano nessuno meno che mai sembrava riguardare il Quirinale che diciamo sembra più preoccupato delle questioni traslochi materassi scatolone di pantonime come quelle che abbiamo visto nelle settimane passate andiamo alle questioni di sostanza e qui la raccomandazione è quella di prendervi un po' di tempo per leggere il pezzo molto sostanzioso che fa il taglio medio della verità di stamattina Claudio Antonelli altro che 4,8 l'inflazione vera è all'8% e poi nelle pagine di economia Antonelli fa due cose molto importanti la prima è partire da un elemento fattuale basta andare al supermercato per vedere quello che succede sulla pasta su una serie di beni primari o aumenti secchi oppure quando il prezzo rimane uguale si riduce la quantità nelle confezioni quindi comunque aumento secco in una forma o nell'altra più o meno esplicita o mascherata e quindi dice Antonelli guardate che la vera inflazione è doppia rispetto a quella Istat doppia sui beni di maggiore consumo dopodiché Antonelli passa dal micro al macro e dice e la mette così lasciar galoppare l'inflazione immaginiamo una media dell'8% durante il 22 significherebbe sgonfiare il debito di circa 200 miliardi se il denaro vale meno anche il debito perde valore peccato che l'inflazione non eroda solo il debito ma anche la capacità di creare ricchezze e quindi di sostenere il PIL ne segue che i prossimi mesi sono cruciali per evitare un avvitamento i partiti soprattutto la lega stanno spingendo il governo a fare scostamento per calmirare i prezzi delle bollette purtroppo però iniettare altra liquidità rischia di aggiungere benzina sul fuoco dell'inflazione a dispetto delle autorità finanziarie infatti il trend è tutt'altro che temporaneo l'inflazione resterà alta all'uno e a questo problema si risponde con interventi di altra natura le buste paga dovrebbero salire in modo coerente rispetto al costo della vita purtroppo le due percentuali mantengono una forbice troppo ampia nel 21 il costo del lavoro è cresciuto solo dello 0,6 e quest'anno difficilmente toccherà l'uno e i flussi migratori non aiutano i continui inserimenti di valodopera a bassissimo costo tendono ad abbassare il valore medio delle buste paga eppure la produttività vedete come poi le cose tutte si tengono insieme e chiude Antonelli ne segue che la sovranità energetica sarà il vero tema sul quale il governo dovrebbe perdere il sonno per cercare una via d'uscita ai problemi economici veramente ignorabile perché le questioni dovresti avere indipendenza energetica e questo diciamo sarebbe di per sé un calmiere dovresti tenere sotto controllo l'immigrazione sregolata perché altrimenti questo oltre a creare disordine abbassa anche artificiosamente il livello dei salari eccetera e mi permetto di aggiungere dovresti immaginare detassazioni complessive e detassazioni anche sull'energia perché una cosa che lo Stato può fare subito è colpire IVA e ACCISE rispetto all'energia ecco vedete come Antonelli vi aiuta ad avere una visione più larga da leggere anche Lottieri sul giornale che fa molto bene l'osservazione che a volo d'uccello facevamo anche ieri sul Cingolani dice ah qui l'inflazione si mangia il PNRR e gli dice Lottieri ma tu che sei un passante un commentatore non sta a te solo fare delle constatazioni o delle chiose sei un decisore Papa Ratzinger la sua lettera nobile e dignitosa in cui diciamo manifesta intimo dolore per quanto è accaduto se ne discute la verità con Lorenzo Bertocchi difende molto Ratzinger forse il giornale più critico è Repubblica che dà voce ad una ancora delle vittime che dice no lui coprì eccetera un'osservazione forse fuori squadra ma interessante la fa Cardini sulla stampa intervistato mi pare da Agassi cito a memoria ma so Cardini sulla stampa di sicuro dice ma siete sicuri che questa via molto emozionale di esporre un pentimento intimo sia la cosa necessariamente più giusta per chi è stato vertice della chiesa naturalmente non abbiamo risposto però la domanda ci sembra la domanda ci sembra assai azzeccata Cardini sulla stampa naturalmente Bertocchi sulla verità diversi giornali è il caso del Corriere citano integralmente la lettera di Ratzinger che è peraltro davvero molto bella anche molto densa dal punto di vista linguistico e intellettuale è un gioco leggete quella lettera e poi trascrivete le cose che ha detto Bergoglio da Fazio soppesate soppesate la dimensione intellettuale dell'una e dell'altra cosa io non vi ho detto niente però fatelo va bene la vicenda Ranunci Report allora che succede il conduttore dal nome Nibelungico Sigfriedo l'eroe di quelli di Rai3 di Report eccetera ha mandato una serie di sms veramente scomposti in qualche caso perfino insidiosi e allusivi a un membro della vigilanza Ruggeri reo secondo lui di avere rilanciato le accuse di un altro membro della vigilanza il capogruppo di Italia di Iva Faraone a onor del vero Ruggeri dice io per la verità nella commissione avevo perfino in qualche misura difeso il comportamento di Ruggeri sta di fatto che ha ricevuto una serie di messaggi tremendi in cui gli si dice ah ma come io che circolavano dei dossier falsi diciamo presunte non vogliamo usare la parola molesti eccetera asserite da parte di Ranucci a carico di colleghi eccetera Ranucci le spinge con sdegno questa cosa e dice a Ruggeri ma come tu il tuo capo puttaniere Berlusconi riassumo con parole mie ma la sostanza è questa dopodiché c'è un'allusione in cui si dice poi io mi arrivano 70.000 dossier su parlamentari che pippano e Ruggeri dice a me che mi importa pubblicali no ma anche però quell'altro Minzolini viene citato Minzolini il quale reagisce in modo vibrante negli sms Ranucci allude a minoregne si capisce anche lì altro fango buttato e Minzolini oggi naturalmente oggi su tanti giornali Libero ci apre trovate tutta questa roba di report Minzolini chiamati in causa risponde nella parte conclusiva del suo editoriale in passato aveva paragonato un certo tipo di giornalismo a OP il settimanale di Mino Pecorelli che negli anni 70 metteva nel mirino leader della politica del calibro di Falfani e Moro con dossier di dubbia provenienza che qualcuno faceva risalire ai servizi deviati ci avevo visto giusto oggi scopro che Ranucci protagonista di una feroce campagna contro Chisano nel cab ha scritto a due parlamentari della vigilanza per minacciarli informandoli di aver ricevuto 78.000 dico 78.000 dossier gli strumenti più efficaci per inquinare la storia di un paese solo che Pegorelli non era un giornalista del servizio pubblico come Ranucci che è ancora lì la decadenza dei tempi nell'Italia dei veleni PS visto che secondo qualche organo di informazione lo stesso Ranucci o qualche dossier non so come mi tirerebbe in ballo informo che ho presentato querele come querelerò tutti quelli che in un modo o nell'altro citassero il mio nome in riferimento alla vicenda in questione così Mizzoli abbiamo un po' sacrificato ma siamo in ritardissimo la politica internazionale Macron sembra sostanzialmente un flop la sua missione perché di fatto il creminino ha smentito poi la ricostruzione che Macron ha fatto si tratta poi di capire se Macron sia in buona fede se il vecchio capo del KGB lo abbia ingannato e abbia fatto il solito gioco della maschirocca un infasto di vero e di falso per confondere gli amici fate di voi un'idea il nostro tempo è finito allora noi ci risentiamo alle 19 questa sera con il vice direttore della verità cerco domattina la lettura dei giornali con Francesco Vialietti non dimenticate alle 19.15 la live su Instagram della verità per spiegare la collaborazione con Tinaba e tutta una serie di nuovi servizi digitali che la verità offrirà e non dimenticate la cosa più importante di tutte in edicola oggi è mercoledì verità e panorama buona giornata a tutti grazie Grazie a tutti.